Oh meravigliosa! Ah, stai andando benissimo, sei un leone! Oh sei un tempio, dai! Non ti fermare! Oh che meraviglia! Oh dai, dai! Dai, dai, dai! Oh dai, dai! Ehi, come telefono? Ci mi telefono! Tanto, tanto mi piace quello del telefono dai! Oh, è mia madre! No! Mamma no! Mia madre, sì dai! Facciamo come... Pronto? Pronto? Mamma, ciao! Non sia questo rumore? Oh no, è Roberto che sta facendo gripolaggio Aspetta, aspetta Non ti sento, allontanati e riprova Eh? Adesso ti sento, sì Adesso è tutta un'altra cosa Il marito deve venire tra un'ora se questo va bene Esagerata Ma che stai facendo? Eh no, qui sbagli se lo metti tutto non gira e se gira, gira male fa una cosa, tiralo un po' perfetto, allora dividilo in due parti sentiamo, dividilo in due parti una parte la fai a mano, che tanto sei capace e l'altra la rimetti va bene, va bene, quando vengo poi te per lo stesso, va bene, ciao beh e che cazzo monedio, sei fatta complicata buonanotte